ben ritrovati di nuovo su review mi trovo nella mia home gym e vi voglio mostrare questi profili angolari in alluminio acquistati su amazon ad un prezzo di 21 euro 5 profili dalla lunghezza ciascuno di 2 metri per un totale quindi di 10 metri e vi lascio i link descrizione di questa azienda di amazon perché prende del materiale davvero ottimo mi vado a mostrare quello che è il profilo in generale allora c'è questa parte in plastica semi trasparente e poi la parte in alluminio che è al di sotto e che dovete andare ad appiccicare diciamo alla parete attraverso delle stanghettine al che vi arrivano incluse e che vi promettono di inserire una vite da fissare al muro una volta che avete fissato le stanghettine squadrette ad l come vedete in questo caso potete andare a montare il profilo in alluminio ad incastro che poi una volta fatto ciò andate a inserire a pressione la parte bianca semi trasparente questo cosa vi consentirà di fare di avere soprattutto un effetto delle luci rgb più opaco pacato e quindi di non vedere proprio i puntini del led rgb vi mostro l'effetto una volta accesi appunto il rgb mi avvicino magari non so se riusciti a vedere ma l'effetto è davvero attenuato quindi si vedono diciamo come delle macchie ma non si vedono i singoli led rgb e a me non piaceva quell'effetto quindi ho optato per un effetto del genere vi faccio vedere tutto il perimetro eccoci qua e come vedete potete modularli quindi tagliarli fissarli a dipendenza della misura che più vi piace vanno inoltre a dissipare diciamo il calore del led rgb e quindi sono un tocco di classe in più anche se volete allestire il vostro soggiorno la vostra camera vi lascio il link in descrizione anche dei led rgb che sono andato a recensire che magari che potrebbero essere utili da abbinare con questi profili in alluminio iscrivetevi al canale per nuovi video tema un gibe nuove recensioni ci vediamo la prossima breve